Come ho fatto aprire tutte queste etichette? In realtà la prima label che ho fatto l'ho fatta nel 2008, però non ero pronto. Avevo lasciato il lavoro in fabbrica dopo dieci anni di acciaieria e ero convinto che avrei potuto fare sto lavoro in qualunque momento, ma non è così, perché non avevo la giusta mentalità. E da lì poi è iniziato il mio vero percorso. Dopo il 2007, quando è morto un mio carissimo amico che era un fratello per me, da lì ho avuto proprio il risveglio totale, ho capito che potevo morire anch'io in qualunque momento. Dovevo prima metter a posto la mia mente, capire come funziona questo lavoro, ma non solo questo. Cioè, parliamoci chiaro, ragazzi, chi vuole fare questo mestiere, o comunque vuoi lavorare nel campo artistico, devi ragionare prima di tutto come un imprenditore. E l'imprenditore ha mindset, la giusta mentalità, quindi sta dalla mattina alla sera a cercare di essere sempre positivo, va alla ricerca di ciò che lo fa stare bene, segue le sue passioni, segue il cuore, non dà retta a nessuno. Più sali poi di livello e più ti sentirai solo. Tutti quelli che ti circondano li vedrai poco interessanti. E quindi il mio consiglio è quello intanto di circondarsi di persone che la pensano come te, e che abbiano la tua stessa mentalità. In quel modo avrete sempre uno scambio costruttivo e crescerete insieme. Come vi dicevo, nel 2008 mi ero licenziato. Ho fatto un paio d'anni fallimentari, quindi mi sono magnato la liquidazione, ho ripreso a fare un'altra volta il metalmeccanico, no? Però mi è servito perché sono stato due o tre mesi solo, sperduto in mezzo alla campagna, non c'era una casa vicino, mi ricordo, e mi ha fatto bene, ho parlato molto con me stesso, ho perfezionato quel percorso. Poi sarà stato il caso, o sarà stato perché il mio subconscio in realtà voleva fare questo di mestiere? Sono rimasto senza lavoro. Ho detto qua, mi devo inventare qualcosa. La prima etichetta discografica, Kaleido Records, e da lì ho detto non mi fermo più, faccio un sacco di etichette. Dal 2008, dall'errore più grande che ho fatto, e che vi dico, raga non lo fate, se non siete ancora pronti per fare solo questo come lavoro, non lasciate il lavoro che già avete, aspettate. Quando cominciate a guadagnare gli stessi soldi, minimo, gli stessi soldi da qui che guadagnate con lo stipendio, allora potete pensare di fare il grande salto. Grazie a tutti.